Stiamo inseguendo la montonchiera. Speriamo che l'atterraggio attraverso. Oggi proviamo a fare un'esperienza nuova, vediamo che tutto va bene, quale emozione ci darà. Speriamo tutto bene. Vi facciamo gli auguri da parte di qui per questo volo. Speriamo che vi è piaciuto. È stato fantastico. Adesso faremo un rituale che lo chiamiamo il battesimo. Il battesimo fuoco e ti spiego con l'acqua. Non pensavo che si bevesse. Si bruciano i capelli. Vi faccio un'esperienza. Vi faccio un'esperienza. Vi faccio un'esperienza. Fai, Fai! Oh, ok! Complimenti! Bravo! 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 Bello non solo il viaggio, tutto è una persona bella che ha costruito qualcosa di molto carino. Grazie a tutti.